Tutto il periodo delle vaccinazioni che fino ad oggi ci ha portato a una percentuale dell'80% della popolazione sta avendo un buon risultato, quindi ci fa pensare che c'è efficacia per coloro i quali si vaccinano e quindi questo è il motivo per cui abbiamo questo abbassamento di questo contagio tra la popolazione. Le vaccinazioni stanno avendo effetto, cala la pressione sul Covid Hospital di Scafati che punta a potenziare l'attività assistenziale ordinaria. Il direttore sanitario del DEA dell'Agro, Maurizio D'Ambrosio, annuncia che da inizio mese si sono registrati pochissimi casi di pazienti affetti da Covid. Ciò permetterà quindi una ripresa dell'attività ordinaria che servirà a far calare la pressione sull'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Nel mese di ottobre abbiamo avuto pochissimi casi di accesso al pronto soccorso di pazienti Covid. Questo ci ha portato in accordo con la direzione generale e con i sovrintendenti all'emergenza Covid dell'ASL a fare una valutazione di iniziare l'attività ordinaria, la chiamiamo pulita, attività verde. Anche perché questo ci consente di poter dare, nell'ambito del nostro DEA, dei Nocera Pagani Scafati e quindi nell'area nord dell'ASL dare un aiuto all'ospedale di Nocera per i pazienti che hanno bisogno di ospedalizzazione e mi riferisco principalmente ai pazienti che appartengono come patologia a quella tipologia di paziente dell'area medica, vale a dire premologia, medicina generale, malattie infettive. E dal primo ottobre abbiamo iniziato questa attività assistenziale con l'apertura di un reparto con 16 posti letto con un'area multidisciplinare suddivisa tra malattie infettive, tra area pneumologica, area della medicina generale. E stamattina proprio ho contattato la responsabile del pronto soccorso dell'ospedale di Nocera e era soddisfatto di questo aiuto che stiamo dando. E ovviamente diamo anche la possibilità all'ospedale di Nocera di non essere pressato proprio da questa attività che purtroppo non ci ha consentito ovviamente di poter attivare altri posti proprio per garantire l'attività Covid. Quindi...